Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Caso Denise Pipitone, la ragazza trovata a Scalea si chiama Denise. La ragazza di 21 anni è identica alla bambina, tutti i dettagli. Nuovo dettaglio incredibile per quanto riguarda la ragazza trovata a Scalea che potrebbe essere Denise Pipitone. Scopriamo tutti i dettagli sulla ragazza di 21 anni segnalata da un testimone. Leggi anche, Denise Pipitone, cosa c'era nella busta trovata a casa di Anna Corona? Denise Pipitone trovata in Calabria? Parla un testimone Denise Pipitone è stata trovata in Calabria? I carabinieri stanno eseguendo controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive a Scalea, provincia di Cosenza. La segnalazione arriva da una commerciante di Scalea, che avrebbe notato la forte somiglianza in una passante, potrebbe trattarsi proprio della bambina scomparsa a Mazzara del Vallo nel settembre del 2004? Chi è la ragazza romena trovata in Scalea? Si chiama anche lei Denise. La ragazza indicata si chiama, incredibilmente, Denise, a 21 anni, è di origini rom e somiglia particolarmente a Denise Pipitone. Questo il motivo che ha portato il testimone ad avvisare immediatamente le forze dell'ordine. Al momento sta eseguendo degli accertamenti e da ieri, 10 maggio, sta rispondendo alle domande dei carabinieri sul suo passato e sulla sua famiglia. Test del DNA, quando? Al momento sono in corso i vari accertamenti, secondo quanto riportato da Mattino 5, i carabinieri decideranno se procedere oggi, 11 maggio, con il test del DNA. La ragazza trovata a Scalea è davvero Denise Pipitone? O si tratta di una coincidenza straordinaria, e voi cosa ne pensate? Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sul caso di Denise Pipitone e la ragazza trovata. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!